Quanto sono importanti i dati per le amministrazioni comunali? Sono sempre più importanti. Le amministrazioni comunali si stanno trasformando da produttori di dati in sempre più fruitori di dati. Noi abbiamo bisogno dei dati perché ormai è compito dei sindaci e delle istituzioni anche intermedie come le città metropolitane di programmare politiche pubbliche sempre più consapevolmente. I dati ci servono perché noi attraverso la disamina dei dati, attraverso l'espressione che i dati contengono in sé, noi siamo nelle condizioni di programmarle bene queste politiche pubbliche e soprattutto siamo anche nelle condizioni di valutare l'efficacia delle politiche pubbliche che noi adottiamo. Quindi sono sempre più fondamentali. Grazie a tutti